adesso incominciano a comandare le donne qui dentro. È la battuta che il Papa ha fatto dopo aver salutato la vicegovernatrice del Vaticano ricevendo in udienza gli astronomi che hanno preso parte al convegno specola vaticana in memoria di Giorgio Emaitre. La libertà e la mancanza di condizionamenti, di cui state facendo esperienza in questa conferenza, vi possano aiutare a progredire nei vostri campi verso la verità, che è sicuramente una emanazione della carità di Dio. Fede e scienza possono essere unite nella carità. Se la scienza viene messa al servizio degli uomini e delle donne del nostro tempo e non distorta al loro danno o addirittura per la loro distruzione, ha osservato.